Ciao a tutti, lei oggi mi sta pensando? Chi fosse interessato ad avere una risposta a questa domanda, segue il video. Nel frattempo, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, iscriviti al canale e iscriviti al mio nuovo canale Felicità e benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Allora, mescoliamo le carte, tagliamo, giriamo e tra le tante carte a disposizione ne vado a scegliere 4 casuali. La carta 1, la carta 2, la carta 3 e la carta 4. Allora, concentrati, pensa a questa donna, della quale vuoi sapere se oggi ti sta pensando. Concentrati, prenditi tutto il tempo che vuoi, puoi anche stoppare il video, puoi farlo ripartire. Dopodiché scegli la carta 1, la carta 2, la carta 3 o la carta 4. Per chi ha scelto la carta 1, la torre, no, rottura. Chi ha scelto la carta 2, ti sta pensando e c'è un forte innamoramento, è innamorata di te. Chi ha scelto la carta 3, diciamo che la ruota della fortuna è una carta molto positiva, e al contrario, quindi affinché le cose girano per il verso giusto, devi cambiare qualche comportamento. Comunque una connessione c'è. Che scelto la carta 4, dunque, ti vede come una persona molto, devi dare un'idea di solidità, se vuoi raggiungere questa cosa. Se dare un'idea di solidità e di stabilità, c'è una connessione, ma se tu appari solido e forte, le cose sicuramente possono migliorare, il pensiero diventerà più intenso, che c'è comunque. Bene, per questo video è tutto, seguimi sulla pagina Instagram, Massimo Terramaschi, iscriviti al canale e iscriviti al mio nuovo canale Felicità e Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti.